Siano lodati Gesù e Maria Cari fratelli e sorelle, oggi, continuando a meditare sul libro di Giuseppe Schrevers, L'Amico Divino, iniziamo a trattare un argomento molto bello, l'ascolto interiore di Gesù che vuole parlare al nostro cuore. Scrive il nostro autore Più Gesù domina in te con la carità, tanto più immerge la tua intelligenza nella sua luce e le scopre ovunque la sua presenza. L'anima, fedele a questa luce, lo vede dappertutto e lo ama senza tregua. La sua vita assomiglia già un po' alla visione. Occupazione deliziosa per l'anima di fede. L'anima pura vive di fede, ode il linguaggio delle creature, è incessantemente china su di esse per leggervi, come in uno specchio, la bellezza e la bontà del creatore. Per essa tutto ha un significato. Ciascuna creatura le porta a Dio ed essa l'accoglie con immensa venerazione e con un amore senza limiti. La voce di Dio è dolce come uno zeffiro. È una commozione, una luce subitanea, una convinzione improvvisa, una parola misteriosa. Si fa udire nel corso di una conversazione o nel momento dell'orazione. Dall'ora è un versetto della Sacra Scrittura che prende un significato che non avevamo mai scorto. Altre volte è una parola qualunque, parlando con altri, che fa un'impressione misteriosa. Altre volte è un semplice avvenimento. Altre volte ancora è Gesù che dirige l'anima con impressioni vive, con parole dette in fondo al cuore. L'anima attenta si abitua a distinguere la voce di Gesù e si stabilisce un colloquio intimo con Lui, interrotto in certi periodi da prove interiori. E perché l'anima non cada nell'illusione, nelle cose importanti, ci vuole il controllo della guida spirituale. Da questo momento comincia la vera vita spirituale. Anche noi, cari fratelli e sorelle, vogliamo iniziare questa meravigliosa vita spirituale che è un colloquio continuo con Gesù e Maria, che ci istruiscono interiormente, che ci illuminano, che ci confortano e ci correggono. Gesù e Maria parlano a noi in tanti modi. E il segno per eccellenza, per capire se sono loro a parlare, è la pace e la suavità del cuore. Se avvertiamo turbamento, agitazione, preoccupazione, timore, non sono certamente loro a parlare al nostro cuore. La loro voce è una dolce convinzione che sorge nel nostro cuore, una luce infusa dall'alto, che improvvisamente prende il posto delle tenebre della nostra indecisione. In un attimo solo di questa luce interiore si capisce tutto, molto di più di quanto potremmo comprendere in mesi interi di riflessioni personali. Gesù e Maria parlano a noi in tanti modi. Si possono servire di brevi frasi che improvvisamente suscitano profondamente dentro di noi, o, il più delle volte, di ricordi di frasi lette e forse già da tempo dimenticate. Da notare una cosa molto importante. Queste frasi, questi ricordi, si affacciano alla nostra mente in modo improvviso e non sono il frutto di una nostra prolungata riflessione. Sono un lontano ricordo sepolto nel dimenticatoio che improvvisamente prende forza e lucentezza nella nostra mente. Facciamo un esempio. Nella autobiografia del padre Marcello della Vergine del Carmelo, carmelitano scalzo ungherese del ventesimo secolo, morto in concetto di santità, si legge un episodio molto bello. Egli, prima della sua entrata al Carmelo, stava attraversando un periodo molto difficile di tenebre interiori. La voce del tentatore, man mano che si avvicinava alla sua entrata in convento, gli faceva intravedere difficoltà insormontabili e un insuccesso sicuro. Egli era già in procinto di scrivere al padre provinciale del Carmelo per dire che ci aveva ripensato quando improvvisamente gli venne in mente una commedia vista a teatro circa 16 anni prima. Una commedia, diciamo pure, insignificante, alla quale non ci aveva più ripensato. Questa commedia parlava di una serva di nome Vika che provvedeva magnificamente a tutte le esigenze dei signori ai quali era a servizio. Per ogni problema, i padroni di casa chiamavano la serva sicuri che ella avrebbe provveduto a tutto e dicevano Vika provvederà. Allora il giovane comprese Quella era la voce della Madonna che lo voleva rassicurare Le dense nubi si diradarono e il futuro padre Marcello comprese che la Madonna è la serva, l'ancella del Signore che per nostro amore si fa nostra serva, la serva di tutti provvedendo magnificamente ad ogni nostra necessità. Dobbiamo soltanto confidare in lei e ripetere con piena convinzione La Madonna provvederà. La Madonna si servì di quel lontano ricordo sbiadito dal tempo per confortare il suo figlio devoto e per incoraggiarlo a compiere quel passo decisivo dell'entrata in convento A tutte le difficoltà che il demonio gli prospettava egli ripeteva La Madonna provvederà Tante altre volte Gesù e Maria si potranno servire di letture di frasi che ci hanno colpito, di frasi che abbiamo ascoltato magari in qualche confessione Ma l'essenziale, che non deve mai mancare, è la pace e la suavità del cuore Altra nota essenziale è che questa voce così dedicata non sarà mai frutto dei nostri ragionamenti Ma sarà luce improvvisa che rompe nell'anima Luce che prende in contropiede ogni nostra riflessione del momento E, come ultimo passo, per le cose importanti ci deve essere il ricorso alla guida spirituale per avere la definitiva certezza Così potremo anche noi iniziare questa vita spirituale questo colloquio continuo con Gesù e Maria a patto di essere puri e umili di cuore e amanti del silenzio e della preghiera Siano lodati Gesù e Maria Siano lodati Gesù e Maria Con Gesù e Maria Comii Con Gesù Con Gesù e Maria Con Gesù e Maria